Uno, via! E' avuta ufficialmente la quinta edizione della percorso di Bologna! Pronti via! Oltre 600 persone provenienti da tutta la provincia di Bergamo hanno partecipato questa domenica alla quinta edizione Deco e Ciaspe in Val del Ries. A salutare i partecipanti della competitiva e della passeggiata, neve fresca in ottime condizioni ma soprattutto una splendida giornata di sole. Quest'anno ci è proprio andata bene perché la nevicata è arrivata proprio a Oc. Si riusciva anche ugualmente a farlo, però con questa nevicata è proprio stata l'ideale. La giornata di oggi è stupenda, magnifica, le persone tutti gli anni aumentano di numero e noi ringraziamo veramente di cuore tutti, tutti, tutti quelli che ci hanno dato una mano. Organizzata dal GSH Mosse e dal CAI Val del Riso, la manifestazione è stata sostenuta anche da altri numerosi volontari che hanno lavorato per giorni per tracciare il percorso e preparare al meglio l'iniziativa. Dalle 106 persone della prima edizione, ora al via oltre 600 partecipanti, che hanno potuto godersi le bellezze della natura grazie a due percorsi tracciati ad hoc per esperti o meno esperti, ma che hanno permesso a tutti di apprezzare la natura e il paesaggio fra i 1200 e i 1600 metri di quota. Ed ora non ci si ferma, gli organizzatori sono già al lavoro per organizzare la prossima edizione. Indubbiamente, indubbiamente, non si può lasciare perdere una cosa del genere perché portare a Gorno 600 persone veramente non è una cosa da tutti i giorni. E queste manifestazioni piacciono alla gente, si diverte, perciò, ok, parlano prossimo. Grazie a tutti per aver guardato il video.